La location giusta, le camere accese, gli attori pronti ad andare in scena con la trama perfetta solo che questo non è un film e questa notte i sogni si avverano nella realtà tenetevi pronti perché è arrivato il momento più importante e non mi resta che dire motore, ciak, azione, inizia Super Fight Roma A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.